ciao ragazzi allora io volevo aggiornarvi sul mio stato di salute innanzitutto vi volevo ringraziare perché mi avete mandato tonnellate di messaggi sotto il video che mi hanno dato una forza incredibile non me l'aspettavo devo dire che sono riuscito fondamentalmente a trasmettere evidentemente qualcosa non a tutti perché non ho tantissimi follower ma grazie mi avete mai scritto una marea di messaggi che mi hanno dato davvero tanta e tanta forza e quindi come sto adesso allora innanzitutto come vedete in questo momento mi trovo a casa sono uscito da poco dall'ospedale ho appena fatto una doccia e mi trovo in questo momento a letto quindi il fatto di essere uscito dall'ospedale sicuramente è un fatto è un fatto positivo mi hanno bombardato di antibiotici mi hanno bombardato di medicine insomma non lo so stato diciamo abbastanza stancante ora in questo momento mi ritrovo che ho la pressione bassissima nel senso che c'è un 96 massima 50 di minima forse se mi alzo cado ma penso sia anche insomma fisiologico appunto dopo essere stato più di 12 giorni di ospedale più sono stato male prima febbre alta prima insomma quasi quasi un mese che sto male quindi diciamo non è andata ecco è anche normale insomma ecco diciamo non avere proprio la forza per fare tutto questa settimana ci stanno da tantissimi eventi come blockchain week al quale vorrei partecipare non so naturalmente se riesco probabilmente ci andrò magari non so due tre ore e poi magari me ne arrivato dipende naturalmente dalla situazione dalla forza insomma che mi sento perché poi vedrò tanti di voi e tanti ragazzi anche di youtube con i quali ci sentiamo spesso ma insomma un discorso a vedersi dal vivo è sicuramente meglio io da tutta questa esperienza amici cominciamo dire innanzitutto che la mia situazione fortunatamente non è così grave come poteva essere come sicuramente ci sono situazioni molto più grave più gravi delle mie però da questa situazione negativa ho preso a mio modo di vedere una una cosa una cosa positiva innanzitutto ragazzi possibile che l'aspetto più difficile che ho notato è la l'aspetto psicologico aspetto psicologico che magari nel mio caso almeno ti faceva vedere le cose in uno stato non proprio positivo ti faceva spaventare ma allo stesso tempo bisognava lottare quindi ho capito cosa significa lottare contro la malattia lottare contro la malattia significa affrontarla con il sorriso affrontarla con ottimismo vedere tante cose positive che ti aspettano i tuoi figli vuoi che mi ha dato una forza incredibile con tutti quei messaggi ho conosciuto una persona stupenda che è un egiziano che sono 50 anni che vive in italia c'è avuto diversi problemi fra i quali cancro via dicendo e ragazzi rideva sempre questa persona era sempre sorridente la persona che parlava insomma di alla ma non gli interessava alla diceva dio dice chiamalo come di pare quindi pure a livello di religione c'era il suo il suo dio ma lui dice che sono tutti tutti uguali ma ragazzi una persona con un sorriso che si metteva lì ad aiutare altre persone una persona d'oro e mi ha aiutato tantissimo tantissimo perché come come lo vedevo veniva il sorriso e quindi non lo so sono persone che sono stato fortunato ecco sono stato davvero fortunato ora adesso come sto io in questo momento mi trovo in dimissioni protette che significa significa che sono dimesso però naturalmente devo fare degli accertamenti che quindi poi proseguiranno e dovrò insomma vedere dovrò approfondire la situazione mi hanno fatto un quasi dice ecco una di a no una diagnosi scusate hanno fatto un intervento se così vogliamo dire chiamato broncoscopia nel quale insomma infilano un tubo nei 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 polmoni sciacquano aspirano e poi dopo fanno insomma i vari esami per capire insomma eventuali patogeni eventuali problematiche insomma che ci possono essere e e dovrò tornare insomma anche per fare un'altra un'altra tac insomma come la situazione in ogni caso l'affronto ma in maniera positiva vedere i video dei dei miei figli che mi aspettavano a casa è una cosa magnifica si tratta cosa ancora adesso stanno a scuola quindi questa sera li vedrò e sarò felicissimo non vedo proprio proprio l'ora sono emozionatissimo io volevo solo ringraziare aggiornare sullo stato di salute perché ho visto che pensavo che interessasse a pochi in realtà è scritto in tantissimi è stato sarei stati fantastici ragazzi evidentemente qualcosa sono riuscito a trasmettere e soprattutto poi ho visto che moltissime moltissime persone cioè ho visto ragazzi in questa situazione non proprio piacevole ho visto l'umanità ho visto che cercano di dividerci ma ho visto che l'umanità esiste che ci sono persone buone persone che sono disposte a sacrificarsi per gli altri e questa è la cosa che mi vi è piaciuto di più cioè avete contribuito tutti per quello che potrà perché avete dato il massimo per quello che potevate fare io come detto spero di vedervi adesso presto magari perché riuscirò a partecipare a qualche evento come detto poco tempo ma niente ragazzi ancora non posso aggiornarvi su bitcoin non posso ancora aggiornarvi sulle criptovalute anche se ho visto che stanno andando benino quindi questo mi rende felice spero e penso comunque sia che nei prossimi giorni di riprendere a fare video e quindi potenervi aggiornati su tutto e ancora ancora grazie ragazzi sono più non ho più nulla nulla da dirvi a presto